Mirko Pisavento, si torna a parlare di Spending Review, i poliziotti a che punto sono? L'ultima ennesima beffa nei confronti dei poliziotti della questura di Padova, senza tenere conto di quelli che sono già i disagi che stiamo vivendo in questi giorni, mi riferisco ovviamente al tetto retributivo, al mancato rinnovo del contratto di lavoro, ora la Spending Review oltre a toccare le divise, lo abbiamo denunciato nelle settimane scorse, le divise operative che sono in misura minore rispetto alle effettive esigenze di chi a Padova effettua il controllo del territorio, oggi purtroppo dobbiamo denunciare ancora una volta un taglio, un taglio, un taglio, un taglio che è relativo alle cartucce che servono necessariamente per quello che è l'addestramento del tiro dei poliziotti. Voi più volte avete chiesto l'intervento del Governo centrale e del Ministero di Riferimento, di fatto quali sono le risposte che avete ottenuto ad oggi? Le risposte per quanto riguarda ovviamente le indennità, il tetto retributivo, il contratto di lavoro sono bloccate, nel senso che ad oggi non ci sono risposte, ma quello che ci preoccupa di più in questo momento sono anche i tagli su quello che è l'aspetto operativo della nostra attività. I poliziotti oggi, o meglio il sindacato di polizia, il sindacato autonomo di polizia oggi si lamenta non tanto per le questioni dell'indennità, che sono comunque fondamentali, ma è all'ordine del giorno la nostra protesta sull'indennità. Quello che ci preoccupa specialmente è questo taglio addirittura sul munizionamento che serve ai poliziotti per esercitarsi, questa è una cosa gravissima e va denunciata all'opinione pubblica. E sulle nuove divise operative cosa dice? Le nuove divise operative sono arrivate dopo quasi 5 anni di sperimentazione da parte del Ministero, sono finalmente arrivate anche a Padova, il SAP lo ha scritto nelle settimane scorse, sono arrivate però in un numero minore rispetto a quello che sarebbe il vero fabbisogno del personale che effettua il controllo del territorio. Per cui inizialmente erano circa 104 le divise, oggi finalmente hanno portato anche un numero tale per coprire le esigenze della sezione volanti. Nonostante questo non dimentichiamo che le divise dovrebbero essere almeno due per ogni poliziotto, ad oggi ne abbiamo quasi una, ecco questa è la battuta.